Io consiglio a tutti di intraprendere questo percorso perché è un percorso che dà veramente quegli strumenti in termini di competenza tali da poter affrontare l'innovazione, le novità, la progettazione perché la scuola è un mondo in continua evoluzione, non è assolutamente una realtà statica. Un percorso che assolutamente consiglio è un modello che va assolutamente implementato anche perché dà la possibilità di dare senso a figure che si occupavano di valutazione dentro l'istituzione scolastica, quale facilitatore dei PON e referente invalsi. Stiamo incrociando queste competenze e costruendo una cultura della valutazione. Il modello CAF ci ha dato questa possibilità.